Vieni assieme a tutti gli amici del web, andiamo a mettere la forchetta nelle lasagne che ci aspetta, ne abbiamo già serviti più di 200, non possiamo farla raffreddare, andiamo! Buongiorno, sono Eric Vrigno, sono professore di francese al liceo professionnel René Cusidé, a Chaland, in Vendée, in Francia, e sono qui per dire tutto il bene che penso dell'accoglio delle saronesi per rapporto ai giovani francesi. E la professore Eric Vrigno di Chaland, in Vendée, professore di francese in Francia, è rimasto meravigliato dall'accoglienza straordinaria che gli italiani hanno riservato, ed è quindi molto contento di questo. E questo giorno, davanti a questo magnifico accoglio, vorrei dire anche che se abbiamo messo in place questo intervento tra i nostri licei, è che l'idea europea, la città europea, è a costruire prima nella conscienza dei giovani. E soprattutto a partire dalla coscienza dei giovani, che si può costruire una coscienza europea. Quindi lo scambio culturale ha questo significato. E spero che i giovani che si incontrano, comprenderanno le loro differenze, ma anche le loro ressemblance. Siamo tutti europei. Innanzitutto, la cosa importante da sapere è che siamo europei e che i ragazzi che si incontrano e che si conoscono possono scambiarsi delle idee che sono fondamentali. Siamo tutti! Scrive l'allattamento, ma chi manca? Scrive l'allattamento, ma chi manca? E' l'occasione per i loro alunni di vedere altre situazioni. E di approfittare di questa occasione per l'apertura verso una cultura universale. Bonjour, je m'appelle Severine e je suis educatrice au Liceo Professionnel Cuisiné a Chalant. Il suo nome è Severine ed è educatrice al Liceo Cuisiné di Chalant. Je suis très contenta de participer à cet échange car ça permet à nos élèves de découvrir un autre pays. E' molto contenta di partecipare a questo scambio culturale perché permette agli studenti di scoprire un autre paese. Et ça nous permet de les connaître ailleurs que dans l'école. E permette di conoscere i ragazzi al di fuori della scuola. Je suis Francesca Callegari. Je suis Marco Luca. Je suis all'unni de l'OIA Lombardia di Saron, une scuola professionale. Je suis Ayutopuoco. Je suis pasticcera. E con i nostri compagni ci siamo già occupati del gemellaggio con Chalant l'anno scorso e quest'anno e stasera abbiamo preparato il dolce. Sì, infatti ci siamo occupati appunto del dolce che riguarda le varie bandiere sia di Chalant, sì, della Francia che dell'Italia, più il logo sia di Chalant che di Saronno. La torta è fatta di pan di spagna con all'interno della crema pasticcera con fragole e gocce di cioccolato decorata con della panna di vari colori appunto colori dell'Italia quindi bianco, verde e rosso e colori della Francia blu, bianco e rosso. La torta è fatta di panorra. Buongiorno, Fèvrier e Cyril, lui c'est Cousiné a Chaland Io sono molto contento di essere qui, ho fatto questo jumelaggio con la ville di Sarronin Abbiamo stato molto ben accogli, quindi spero che il séjour va passare il meglio possibile E ancora ringrazio a tutti i ragazzi che ci hanno accogli e che ci hanno fatto questo buon repasso Io mi chiamo Maria Laurence Deschamps, siamo molto contenti di essere qui, è davvero il buono di essere qui perché abbiamo avuto un super accueil, abbiamo avuto un super repasso con il mondo, c'è un bel intervento e c'è davvero bene Ciao Sarrono 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 Grazie a voi, au revoir. Ciao, mi sono Alice Merlet, sono del liceo René Cusiné, ho chiamato a Sarono. Io volevo dire che il jumelage è una buona esperienza perché si apprende a permetter una altra forma di vivere, quindi è super interessante. Grazie di aver accogli. Fabrice Trovalet, professore d'anglais. E' molto bene la signora Chef, è molto bene l'Italia stare a Sarono, è fantastico. Ragazzi abbiamo mangiato, anzi abbiamo stramangiato, abbiamo terminato col dolce del loiale e ora andiamo a smaltire in palestra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.